Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Dopo circa una dodicina di ore già che ho accumulato su Dragon's Dogma 2 vorrei darvi qualche piccolo consiglio per l'inizio, in particolare su due o tre punti molto importanti che mi sono accorto appunto essere critici. Sto parlando del peso, dei soldi e in generale dell'equipaggiamento, skill, armi, tutto quanto, sia vostro che della vostra pedina principale, oltre che la gestione in generale delle pedine. Quindi facciamoci queste quattro chiacchiere, vi do questi quattro consigli e poi mi fate sapere anche voi la vostra esperienza. Partiamo col fatto che questo gioco è palesemente un gioco molto più orientato sull'equipaggiamento piuttosto che la skill personale, ok? Non è un gioco particolarmente difficile, c'è una sola difficoltà che si adatta, quindi se cominciate anche a morire tanto il gioco diventa più facile e di pari passo se invece non morite mai diventa un pochino più difficile, ma in generale mi è sembrato un gioco abbastanza semplice. L'unico momento in cui le cose sono difficili è se andate un po' troppo oltre magari la vostra zona di competenza, il vostro livello, quindi magari esplorate un po' troppo in largo, cominciate a beccare nemici di un livello più alto, anche se il livello non è mostrato, ma ve ne accorgete subito perché tipo vi uccidono in due o tre colpi o hanno una quantità di vita allucinante che voi non gli fate niente. Ma se combattete nelle aree del vostro livello il gioco è abbastanza facile. Quindi è molto importante in realtà l'equipaggiamento, è ovvio che è importante anche schivare e combattere bene tutto quello che volete, ma i danni in particolare, i livelli sono super importanti. Detto ciò, la primissima cosa che sicuramente tutti noteranno immediatamente è la problematica del peso, ok? Perché si è sempre costantemente pesanti, nel senso c'è veramente una possibilità di portare poco peso rispetto a tutte le cose che si vanno a raccogliere. In particolare ci sono cose molto pesanti, a parte proprio l'equipaggiamento di per sé già pesa abbastanza in generale per quasi tutte le classi, poi dipende ovviamente, ci sono cose più pesanti per magari il guerriero e cose più leggere per il mago che in generale, però i pesi sono molto alti. E poi in particolare pesano molto i kit da campeggio, che chiaramente vi dovete portare sempre, questo è un super consiglio quasi ovvio però, averne sempre almeno un paio, perché poi è anche l'unico modo per recuperare la vita massima persa. Oltre il fatto che vi può far schippare la notte, dato che la notte è molto pericolosa, molto buia e ci sono nemici più forti. I kit da campeggio pesano assai e anche lì vi consiglio di farli portare sempre non da voi ma da altri, ok? Non portatevi voi mai il kit, datelo sempre alla vostra pedina principale e volendo anche le altre due pedine, ma occhio ricordatevi che le altre due pedine spesso magari le andrete a cambiare, quindi non scordatevi nel loro inventario un kit da campeggio. Ma in generale appunto il peso è abbastanza un po' un problema, bisogna sempre gestirlo in continuazione. E quindi vi dico, se volete rimanere nelle regole chiaramente e non volete fare i modder da pc perché già esistono mod che praticamente vi danno la possibilità di avere tipo 3000 di peso e quindi ignorare poi il peso per tutto il resto del gioco, cosa che io non sto facendo e non sto usando nessuna di queste mod già super quality of life, anche che eliminano la stamina, il consumo della stamina fuori combattimento, oppure vi resettano la vita massima persa, cose di questo tipo già ci sono tutte queste modi su pc. Io non le sto usando perché ovviamente devo analizzare il gioco, voglio analizzare il gioco nel suo stato originale. Quindi se non volete cittare su pc dovete semplicemente gestire al meglio il peso, questo vuol dire usare molto il deposito, quindi buttare dentro il deposito sempre tutto quello che è d'extra, cioè tenetevi il minimo indispensabile anche perché se voi volete craftare oppure volete poi upgradare le armi o volete comprare cose, comunque lui userà le cose nel deposito. Inoltre usate molto la vostra pedina principale per caricarla tantissimo perché è il vostro problema se siete sovrappeso. Se le pedine sono sovrappeso non è, non si nota niente, cioè non è un gran problema. E l'ultimo consiglio ovviamente cercare di non farsi scappare mai gli scarabèi, questi scarabèi luminosi che in particolare di notte si vedono meglio però comunque sono abbastanza luminosi, che sono dei consumabili che andate trovando in giro per i boschi o in giro per il gioco e che vi aumentano in maniera persistente il limite trasportabile, anche se di molto poco, tipo 0-15, qualcosa del genere. Quindi questi non fatevi mai scappare, chiaramente sono molto utili, consumateli sempre in modo da avere più peso possibile trasportabile. Poi se avete qualche classe che ha come passivo ovviamente qualcosa sul peso prendetela. Detto ciò andiamo per i soldi. I soldi sono altro problema, tra virgolette. Diciamo che nella parte iniziale del gioco noterete che tutto costa parecchio rispetto ai soldi che avete. Anche fare dei piccoli upgrade comunque sono abbastanza costosi, nonché ogni volta che si riposa in una locanda partono 2000 soldi o 1500 a secondo dei posti. Quindi la gestione di soldi è importante, cioè non buttate i soldi a caso, siate un po' oculati almeno per le prime ore di gioco, poi magari dopo che ne so 10-15 ore cominciate a fare tanti soldi tranquillamente, ma vi assicuro che comunque i prezzi tengono botta. Quindi troverete sempre un sacco di equipaggiamenti interessanti nella capitale o nelle altre città o nei vendoli in giro che magari vorreste comprare proprio perché vi aumentano i danni, la resistenza e tutto quanto come equipaggiamento, però costano tanto. E i costi continuano a salire sempre di più, quindi è ben bilanciato diciamo l'economia del gioco, almeno mi sembra, queste prime ore. Quindi spendete oculatamente i vostri soldi. Io metterei in primo piano ovviamente sempre l'arma, ok? Perché più che la difesa, dato che comunque è un gioco di parti, ci sono le pedine che comunque fanno tanto, secondo me è meglio spendere più soldi sull'attacco che sulla difesa, in modo poi da far finire più velocemente gli scontri. Quindi armi migliori magari preferite comprare quelle piuttosto che qualcos'altro o fare upgrade. Per fare più soldi in realtà vi conviene fare le quest dove è possibile perché di solito le quest pagano parecchio, ovviamente esplorare, aprire casse, anche quelle un po' nascoste, più sono nascoste a volte più soldi ci sono e in generale sui nemici diciamo che i banditi umanoidi e qualche goblin di solito buttano giù un bel po' di soldi, molto più che altre tipologie di nemici. Comunque rimanete abbastanza oculati sulla gestione economica, almeno per le prime dieci ore, quindici ore. Per quanto invece riguarda la gestione del vostro equipaggiamento delle vostre pedine anche questo è molto importante. Come vi ho accennato prima è un gioco basato molto sulla parametria e sull'equipaggiamento e sui livelli, quindi costantemente ricordatevi che voi potete comprare nuove abilità sia attive che passive che anche quelle attive poi si aggiornano e ce ne sono sempre altre più forti come upgrade e quindi tenetevi aggiornati il vostro personaggio, sia il vostro che la vostra pedina principale, non scordatevi di lei perché comunque mena o cura o comunque è estremamente efficace tanto quanto voi fondamentalmente se la equipaggiate bene e quindi siate efficienti anche lì a spendere i punti skill per avere più skill possibile, più passivi possibili anche lì per fare o più danno possibile o se è un mago o siete voi maghi anche avere ovviamente delle difese e delle cure. Ricordatevi anche che potete upgradare sia le armi che l'armatura e in particolare il primo upgrade ce ne sono tre che si possono fare o forse addirittura quattro andando avanti più con oggetti più rari, comunque il primo upgrade costa solo gold non costa materiali, poi ogni tipo di upgrade per arma e armatura ha bisogno di materiali extra che insomma uno deve andare a cercare o deve aver trovato, ma il primo upgrade è solo gold e di solito non è tantissimo, quindi anche lì soprattutto sull'arma per fare sempre più danno possibile magari il primo upgrade fatelo sempre e tenete upgradati aggiornati sia voi che la vostra pedina principale. Per quanto riguarda invece le pedine che andate acquisire nella faglia, quindi degli altri giocatori oppure quelle che trovate in giro che ogni tanto si propongono loro, valutate bene ovviamente che classi sono rispetto alle vostre, alle vostre diciamo, a voi e la vostra pedina principale in modo da avere un party chiaramente un pochino variegato, ok? Che ci sia almeno uno che prende i colpi che sta davanti, che sia un fighter o un warrior, che ci sia almeno un mago che cura e poi gli altri due a piacere. Poi anche state attenti a che statistiche hanno queste pedine che andate a prendere nella faglia, perché a parte che potrebbero avere delle missioni date dal suo padrone che vi potrebbero fare comunque guadagnare altre XP o altri ricompense, ma poi le pedine acquisite potrebbero avere anche delle specializzazioni molto interessanti oppure addirittura potrebbero essere di un livello più alto perché quando andate a esplorare e trovate diciamo gli obelischi della faglia, non quelli principali ma quelli proprio imboscatissimi in giro per la mappa, a volte spunta una pedina così dal nulla random che è tipo due, anche tre, quattro livelli a volte più alta di voi. Quello ovviamente è un boost notevolissimo se la reclutate e a volte sono anche gratis perché è tipo una cosa speciale. Quindi in quei casi magari sfruttate quel boost di una pedina più alta rispetto alla media del vostro party perché chiaramente fa tantissimo ma proprio tanto, cioè le statistiche come ho detto contano assai. E poi ricordatevi di aggiornare spesso la pedina 3 e 4 diciamo appunto quelle acquisite dagli altri giocatori perché per quello che ho notato praticamente non livellano quando stanno in parti con voi o comunque si aggiornano molto lentamente. Quindi se tenete le stesse pedine per ore rimarranno indietro di livello quindi ogni tanto cambiatele così giusto per averle del vostro stesso livello o addirittura più alte se ne trovate più alte. E direi che questi sono tutti i miei consigli forse più di quattro. Sono andato un pochino a ruota libera ok? Però insomma erano tutte le cose che volevo dire dopo queste mie prime 12-13 ore di gioco. Sembrano consigli interessanti, importanti per chi deve ancora cominciare a giocare a Dragon's Dogma 2. Bene ragazzi spero che il video sia stato utile. Fatemi sapere quello che volete sotto nei commenti e ne parliamo. Noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, grazie per il supporto sempre. Statemi bene come sempre. Alla prossima, ciao ciao!